Il coordinamento Noti Tipi perché abbiamo deciso con l'emergenza cultura di aderire mutuamente a entrambe le manifestazioni, quindi noi sfideremo la mattina dalle 11 a intorno verso mezzogiorno le 2 e procederemo poi verso Piazza del Popolo dove ci sarà la grande manifestazione del coordinamento nazionale Noti Tipi che è il trattato transnazionale europeo che ci assilla un po'. Grazie per l'invito perché è davvero molto piacevole parlare qui con voi e partecipare mutuamente alle rispettive manifestazioni. Per noi è molto importante anche riprendendo quel discorso sul modello americano a cui Vezzi faceva riferimento perché è proprio a pie pari dentro il modello americano che stiamo per immergerci con questo trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti che viene riassunto in questa sigla che si chiama TTIP. Si parla di un accordo, il più grande accordo sul commercio e gli investimenti che mai sia stato stipulato tra due blocchi, in questo caso l'Unione Europea e gli Stati Uniti, un accordo che prende le mosse dalla necessità del blocco occidentale di riacquisire peso geopolitico dopo l'emersione di colossi come la Cina o paesi emergenti come l'India che stanno rubando quote di mercato a un sistema che fino ad oggi aveva funzionato per chi lo governava molto molto bene. È per questo che Stati Uniti e Unione Europea hanno cominciato nel 2013 a discutere di una grande area di libero scambio, un grande spazio, una grande opera se vogliamo tornare al concetto di prima, una sorta di grande opera di ingegneria giuridica che possa mettere insieme, livellando le normative e gli standard europei con quelli statunitensi, con risultati che potreste ben immaginare. Ci basti sapere che il modello europeo è ispirato o dovrebbe ispirarsi al principio di precauzione, cosa tutt'altro che vigente negli Stati Uniti. Il momento in cui due grandi architetture normative si confrontano e sono così diverse, perché gli Stati Uniti hanno un approccio completamente diverso alla normativa, alla regolazione, che è quello che loro chiamano basato sulla scienza, ossia prima metto in commercio una sostanza, un prodotto, poi dopo vedo se provoca determinate conseguenze devastanti, in qualche modo verrà fuori e porremo dei rimedi. Noi, sulla base di studi precedenti, come europei, dovremmo valutare, visto che anche in Europa si sta erodendo molto il principio di precauzione, se questa sostanza o prodotto può provocare degli impatti negativi sulla società, nel qual caso possiamo anche prevedere l'opzione zero, cioè non l'hanno messa in commercio. Ecco, una volta che nel 2013, innanzitutto, questo va detto, la Commissione europea ha delegato un gruppo di negoziatori, così ha fatto il Dipartimento del Commercio statunitense, a parlare e a confrontarsi sulle differenze che sussistono tra il nostro blocco e il loro, questi negoziati avvengono a porte chiuse, segretamente, diciamo, poi si conoscono i luoghi dove avvengono, ma non si conoscono i contenuti, non si sono mai conosciuti i contenuti. La Commissione europea ha fatto, diciamo, opera di aumento della trasparenza dopo che c'è stata una grossa pressione da parte dei movimenti dell'opinione pubblica. Ci sono oltre 600 organizzazioni in Europa che tentano di contrastare questo accordo commerciale che va definendosi anno dopo anno. Queste hanno un certo peso anche politico e quindi hanno mosso sindacati, hanno mosso forze politiche, forze sociali, al che la Commissione europea si è trovata pressata dietro a questo trattato segreto che investe la vita delle persone nel suo complesso e ha dovuto fare delle concessioni. Quello che ha fatto semplicemente è pubblicare dei riassunti o dei paper propagandistici e niente dei testi negoziali veri e propri. Quindi ancora tutt'oggi noi non sappiamo di che cosa si sta parlando e in che termini. Abbiamo molti termini di paragone perché in questi ultimi, dal dopoguerra ad oggi, gli accordi di libero scambio sono proliferati, l'Unione Europea ne ha addirittura 3.000 attivi, circa 3.000, ma fino ad oggi noi ci siamo trovati in posizione di vantaggio, cioè ad discutere e ad armonizzare i regolamenti e ad aprire i mercati in modo da far fluire più facilmente le merci e le esportazioni con paesi più poveri o comunque meno potenti dal punto di vista geopolitico. Questo in molti casi ci mette al riparo dall'invasione di prodotti, prestatori di servizi che invece potrebbero danneggiarci, ovvero abbattere le nostre economie locali. Con gli Stati Uniti succederebbe l'esatto opposto, poiché noi sappiamo per esempio in Italia che abbiamo 4 milioni di piccole, medie e micro imprese che valgono il 95% del tessuto economico nazionale che verrebbero messe a diretto confronto con i colossi dell'industria statunitense. E questo per noi potrebbe essere un grosso problema, cioè noi non sappiamo che cosa esattamente si sta discutendo dentro questo accordo, dentro questi negoziati, ma sappiamo quali possono essere gli impatti e questo ci preoccupa molto. Ci sono, come dicevo, si tenta in tutti i modi di far uscire delle carte da questi negoziati, in qualche caso ci si è anche riusciti nel caso per esempio di un capitolo sullo sviluppo sostenibile di questo accordo che la Commissione europea aveva proposto, non ha ancora approvato perché non c'è ancora nulla di approvato, siamo a livello negoziale, al penultimo incontro, quello di prima della COP21, della conferenza sul clima, agli Stati Uniti. Aveva proposto un accordo che non teneva conto di nessuna tra le convenzioni sulla biodiversità, le convenzioni fondamentali sul lavoro e un sacco di normative internazionali, anche approvate in ambito ONU, comunque delle carte fondamentali che servono a tutelare i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro, erano completamente evasi da questa proposta di capitolo sullo sviluppo sostenibile. Questo ci fa capire che se in Europa abbiamo determinati standard che ancora ci garantiscono di vivacchiare, questo non accade negli Stati Uniti dove gli standard sono molto più bassi, se noi non poniamo degli obblighi su questi capitoli, su questi punti, è implicita l'abbassamento dei nostri livelli di tutela. Questo è un po' il centro dell'accordo. Si chiamano barriere non tariffari, regolamenti, standard normativi che permettono un certo livello sotto il quale non si può scendere per assicurare sicurezza alimentare, qualità del cibo, diritti del lavoro, qualità dell'ambiente. Queste barriere non tariffari vengono considerate dal gruppo dei negoziatori delle barriere al commercio, ovvero frenano gli scambi commerciali, impediscono alle aziende di scambiare i prodotti o di venire a lavorare abbassando gli standard sul lavoro nei territori rispettivi. Ovviamente questo diventa un problema quando si crea una cornice normativa gigantesca alla quale i regolamenti nazionali e persino quelli dell'Europa devono sottostare, perché attenzione non è che parallelamente noi possiamo decidere no, la legge nazionale, il contratto nazionale di lavoro io mi rifaccio a quello e quindi non accetteremo mai delle condizioni come quelle che ci proponete con il TTIP. No, perché quella architettura normativa è superiore, dunque vengono a cadere tutte le tutele, tutte le conquiste che negli anni sono state fatte a livello italiano e a livello europeo. Eravamo rimasti che si chiamano barriere non tariffarie. Gli Stati Uniti entrano in Europa per una buona parte, ovvero scaricano gran parte delle loro potenze di esportazioni sui nostri territori. Dall'altra parte l'Europa vuole entrare negli Stati Uniti per gli appalti pubblici, per esempio, perché negli appalti pubblici incredibilmente loro hanno delle tutele superiori alle nostre. Il Buy American Act è una legge che impedisce, per esempio, se tu vai a fare una ferrovia, visto che prima parlavamo di ferrovia, di prendere l'acciaio da altrove, lo devi prendere dagli Stati Uniti, così almeno le aziende che fanno acciaio negli Stati Uniti lavorano. Almeno così dovrebbe essere. Invece da noi abbiamo aperto molto di più i mercati rispetto agli Stati Uniti. E proprio oggi leggevo un articolo nel quale si diceva che gli appalti pubblici potrebbero far naufragare il TTI, perché, poi questo è un po' fantasioso ovviamente, ma sicuramente è un punto chiave per il quale gli Stati Uniti non vogliono concedere molto all'Europa, mentre l'Europa vorrebbe entrare. Quindi c'è un rispettivo compenetrarsi. Tutto ovviamente a danno della collettività, a quanto possiamo desumere. Quella rimane ovviamente, però comunque sia si tentano accordi su tutta la scala. Questo è il più grande che abbiamo al momento, ma si tentano accordi su qualsiasi scala. E non credo proprio che, e questo è il problema. Noi pensiamo che magari con gli Stati Uniti possiamo metterci d'accordo che con i cinesi no. Ma non si può trattare, noi chiediamo di non trattare al ribasso, non si può trattare meglio in questi casi, perché la potenza di chi tratta in questo caso è molto importante da capire. Chi tratta sono questi negoziatori, nominati da Commissione Europea e Stati Uniti. Noi non conosciamo nessuno, non c'è un'elezione, non sappiamo chi decide le nostre vite in questo momento. Questa è una cosa. Seconda cosa, quando si fanno delle consultazioni, prima si parlava della consultazione pubblica, che è molto importante per definire i parametri di un'opera, questo per esempio non accade per il TTIP, o meglio accade in maniera infinitesimale, perché negli incontri che i commissari europei, nell'aspetto specie il commissario europeo al commercio, prima era un certo Karel de Gucht, oggi si chiama Cecilia Malmstrom, hanno fatto circa 600 incontri prima di far partire questi negoziati con i gruppi di interesse. Guarda caso il 90% erano incontri con le lobby dell'industria, della grande industria, delle grandissime industrie, associazioni europee o transnazionali della chimica, della farmaceutica, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'agrochimica, diciamo poi dell'agribusiness. Mentre con i gruppi di interesse pubblico, così possiamo chiamarli, gli incontri sono stati ridotti all'osso e hanno accolto le preoccupazioni e non hanno dato seguito. Quindi quello che noi rischiamo con il TTIP, che cercheremo il 7 maggio riportare in piazza, è anche un altro modello di sviluppo, quello che noi chiediamo, che è lo stesso da cui prende le mosse anche la manifestazione di emergenza cultura. Un modello di sviluppo che parte ovviamente dal basso, come si può dire anche in maniera spesso molto facile, però che contempli la partecipazione pubblica alle decisioni e non, come invece sta avvenendo, su scala italiana, come abbiamo appena visto, su scala globale, come stiamo vedendo adesso, un'estrazione della capacità di determinare il proprio futuro, del potere proprio, se vogliamo chiamarlo così, da livello locale a livello globale e soprattutto da livello pubblico al privato, perché è questo che si sta facendo. Azzerando le normative che ci difendono e che ci tutelano e che ci danno dei diritti, noi stiamo semplicemente dando in mano al privato tutti i poteri di cui ha sempre voluto dotarsi per entrare a governare un'economia senza più rischio di impresa. Questo è un altro punto fondamentale e poi mi avvio alla conclusione. Il TTIP prevede delle clausole devastanti per le quali un'azienda, una grande azienda, una multinazionale, mettiamo così, che viene ad operare dall'America in Europa o in Italia e dall'Europa agli Stati Uniti, può fare praticamente tutto ciò che vuole, violare tutte le normative che vuole. Nel caso venisse espropriata, ci fosse una moratoria su per esempio le trivellazioni in mare, come è avvenuto con il referendum, se ci fosse un esproprio, questa azienda potrebbe rivalersi sul pubblico con una causa legale non intentata presso le corti ordinarie o le corti nazionali che conosciamo, la Corte Europea di Giustizia, arriverebbe questa causa dentro un arbitrato internazionale. Gli arbitrati internazionali sono nient'altro che dei consessi di arbitri commerciali, cioè dei giudici esperti in diritto commerciale nominati e pagati a circa 700.000 dollari l'ora dalle parti, lo Stato e l'azienda, che devono decidere sulla base di un solo codice, il testo del trattato. Diritti umani, diritti civili, normative sul lavoro, standard, tutto quello che vogliamo, non vale più nulla. È il contrario, perché lo Stato può essere... è peggio ancora, non è che lo Stato è solo sullo stesso piano del privato, il privato viene elevato oltre il rango dello Stato, perché lo Stato non può denunciare un privato che ha violato delle regole alla Corte arbitrale, anzi può essere solo chiamato in causa, può essere solo chiamato a rispondere. I dati ci dicono, questo ovviamente è un meccanismo molto opaco, che la Commissione europea sta cercando per fare delle concessioni e per rifarsi, diciamo, il look, di modificare, creando una specie di corte internazionale di arbitrato, che comunque si è stata appena bocciata, l'idea di questa corte internazionale di arbitrato, dall'associazione dei magistrati tedeschi, che è una grande associazione di magistrati più grande, si chiama DRB, che è il Deutsche Richter Bund, ha prodotto una carta dicendo, guardate, anche se voi modificate questo arbitrato internazionale commerciale in un sistema di corte dove i giudici sono, c'è una lista di giudici pubblica e noi li conosciamo e sappiamo chi sono, comunque rimane il fatto che A, si può citare uno Stato di fronte a una corte terza, travalicando le prerogative della Corte europea di giustizia e delle corti nazionali. B, tutto questo, se noi non prendiamo in considerazione tutte quelle normative e quelle leggi che tutelano il consumatore, il cittadino e i suoi diritti, ovviamente avremo sempre un giudizio viziato, un giudizio che è viziato e che non ha, come si può dire, non ha poi riscontro nella realtà, non è un giudizio giusto, vero, no? Come sappiamo poi la legge giusta non esiste magari tanto spesso, perché anche la legge che abbiamo qui, come la legge obiettivo di cui parlavamo prima, è una legge ingiusta, ma qui stiamo parlando veramente di fanta giurisdizione, cioè non è più fanta giurisdizione, non è la parola giusta, comunque non stiamo più nell'alveo dell'architettura democratica che abbiamo costruito in decenni, si scardina completamente il principio democratico sullo quale dovrebbe essere basato uno Stato di diritto, da uno Stato di diritto passeremo, come si sul dire, a uno Stato di mercato. Questo in sintesi è il TTIP, senza dimenticare che c'è in ballo anche la privatizzazione di praticamente tutti i servizi pubblici, perché con la definizione di servizio pubblico, alla definizione di servizio pubblico all'interno del TTIP sfugono soltanto la magistratura, le rotte aeree, l'amministrazione della giustizia, l'ho detto, comunque tre o quattro piccoli, anche magari grandi, servizi e tutti gli altri sono inclusi nella privatizzazione. Noi abbiamo un modello sul quale pensare al TTIP che si chiama CETA, il CETA è l'accordo transnazionale tra Unione Europea e Canada che è appena stato concluso, aspetta solo la ratifica del Parlamento Europeo che arriverà probabilmente entro maggio giugno, se non ci opponiamo anche a quella ovviamente, e la fotocopia del TTIP su scala più piccola semplicemente. E anche qui abbiamo tutte queste preoccupazioni che vi ho enunciato fino ad ora, tra cui anche un grosso problema sul capitolo dell'energia, perché l'Unione Europea aveva certi obiettivi in merito alle emissioni di carbonio, all'inquinamento, ai trasporti, salterebbero completamente. Anzi, le direttive europee che dovevano normare questi aspetti sono state già scardinate in vista di questo accordo, perché il Canada è il più grande produttore al mondo di petrolio da sabbie bituminose, che è il petrolio più sporco del mondo, che per essere estratto necessita di procedimenti devastanti, raschiando la terra ed estraendone una fanghiglia che poi va raffinata con processi molto, diciamo, ad alta intensità carbonica, si dice, quindi molto inquinanti, per poter essere venduto sul mercato. E noi per ricevere quel petrolio, dopo che abbiamo fatto la conferenza sul clima dicendo che dovremmo spostarci sempre di più sulle fonti rinnovabili, abbiamo fatto un accordo con il Canada che ha già portato le prime navi a sbarcare in Europa, senza che ancora l'accordo sia in vigore. Quindi noi il 7 maggio, come campagna Stop TTIP Italia, che è nata dall'unione di 300 organizzazioni italiane, sindacali, ambientaliste, di ogni taglio e colore. Saremo in piazza, partiremo da Piazza della Repubblica alle 14, ci incontreremo con gli amici di Emergenza Cultura alle 15 e arriveremo in Piazza del Popolo, dove ci sarà invece la piazza tematica più grande, con produttori locali, se riusciamo a coinvolgerli, allora cercheremo di fare una bella intrattenimento e una grande piazza aperta a tutti quanti. Per dire stop al TTIP prima che nell'ultimo round negoziale di giugno tentino di concludere qualcosa, perché se riescono a concludere qualcosa, anche solo una bozza del trattato a giugno, adesso, ci troviamo in un mare di guai. Se invece non ci riescono per discordie interne, per problemi ad armonizzare normative, allora siamo molto più fortunati perché avremo più tempo per riuscire a controbattere, perché poi Obama entra in una sorta di semestre bianco nel quale non può più siglare degli accordi internazionali, ci saranno le elezioni, bisognerà vedere dopo con il futuro Presidente se accoglierà l'agenda commerciale del Presidente Obama oppure se non gli interesserà più andare avanti con questi accordi. L'idea è che gli interesserà lo stesso, ma a noi comunque serve tempo per bloccare questo processo. Se riescono ad arrivare a una bozza di trattato adesso, tutto quello che succederà dopo verrà deciso in stanze diciamo ancora più segrete e saranno in mano tutta l'implementazione del trattato, in mano a tecnici di cui nemmeno sapremo l'esistenza e ci troveremo con liberalizzazioni selvagge su tutta la scala, dai servizi come dicevamo ai prodotti, all'agricoltura e agli standard delle normative e alle qualità dell'ambiente, di cui noi cerchiamo di non pensare nemmeno. Grazie. Grazie.